A Grotte, in via Orsini, Pietro Chiarenza, 64 anni, avrebbe atteso il fratello all'uscita da casa e appena lui è stato fuori lo ha ucciso accoltellandolo alla gola. La vittima è Roberto Chiarenza, 56 anni, tabaccaio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che indagano, coordinati dalla sostituto procuratore di turno Cecilia Baravelli. I carabinieri della stazione di Grotte hanno già bloccato ed è avvenuto di fatto in maniera fulminia Pietro Chiarenza, 64 anni, il fratello della vittima. È stato ritenuto responsabile di aver ucciso il fratello con una coltellata alla gola. Pare, secondo le prime ricostruzioni, che tra i due fratelli il rapporto fosse in crisi per vecchi rancori. Inoltre, i due durante questi giorni di quarantena commivevano nella stessa abitazione al piano superiore della tabaccheria insieme a un terzo fratello. La vittima nel 2016 era stata arrestata dai carabinieri per stalking e danneggiamento venendo in seguito assolto.